Basta prenderci per il culo, diciamocela la verità, diciamocela, anzi ditevela la verità. Invece di scrivermi queste mail del cazzo dove mi chiedete l'impossibile, ponetevi delle domande e datevi delle risposte. Voi ci sapete stare senza le minchiate? Sapete vivere senza credere all'asino che vola? Perché questa è la domanda che mi pongo io. Perché allora non si spiegherebbe come mai credete a tutte le puttanate che dice Biglino, il fatto che noi siamo stati creati dagli alieni, Biglino che altro non fa che copiare le stronzate di quell'altro chartrone svizzero di Eric von Dijken, non mi ricordo esattamente come si chiama, e riportarvele voi. Se voi foste delle persone intelligenti, anziché cercare il guru di turno che vi dice la stronzata del giorno, a partire da Red Ronny, ma non c'è solo Red Ronny, a quest'ora sareste delle persone felici, ma adesso mi tocca rispondere all'ennesima puttanata di qualcuno di voi che mi ha detto tu non conosci gli esseni, Gesù era un esseno, e non hai mai letto il Vangelo esseno. prima di mandarvi a fanculo vi spiego perché. Amore è legge, amore sotto la volontà. Sapete voi cosa siete in grado di fare? Siete in grado di percepire le informazioni che vi dà x o y, le fate vostre, non le approfondite, non vi fate una domanda, non vi ponete una domanda, e poi le riportate in giro come se fossero il verbo, la verità, le fate vostre, le divorate, ma non studiate perché siete delle capre. E allora non c'è da stupirsi se un imbecille fra di voi mi ha parlato di un Gesù vegano, esseno, e mi ha parlato anche del Vangelo esseno della pace. E allora poi dici che uno non si deve incazzare. Voi lo sapete chi erano gli Esseni? Avete idea di dove vivevano? Ve lo racconto io. Degli Esseni noi sappiamo poco che è un cazzo perché era un gruppo di ebrei monasta, ok, ultraortodosso, con delle sue regole ben particolari. E sapete gli Esseni quando si pensa che si siano venuti a formare come gruppo? Circa il secondo secolo avanti Cristo. Ora, domanda, nessuno sa, cosa vuol dire la parola Esseni? Le poche tracce sugli Esseni che abbiamo ce ne dà qualche scrittore romano. Una delle notizie, una delle fonti più credibili dove c'è una cena di Esseni è la guerra di Giudea, ma lasciamo stare questi particolari. Voi conoscete un tale Ahmed Osman? No, non lo conoscete. Il nostro giovane Ahmed? Non lo conoscete. Un egiziano che pur di... Uno scrittore, giornalista egiziano che pur di portare avanti le sue strozzate se ne è dovuto scappare a Londra se non gli taglievano la testa. Vissuto nel Novecento? Ci siamo nel Novecento? Un egiziano che voleva dimostrare a tutti i costi le origini egiziane degli ebrei. E lo sapete che cosa si è inventato in uno dei suoi tanti libri? Perché lui è stato uno di quelli da cui Malanga e altri signori prendono ispirazione. Il libro si intitola I Faraoni ebrei dove lui afferma senza prove storiche alcune ma sulla base delle sue teorie come possono essere le teorie di Biglino che Mosè era un faraone tutto Moses. Avete presente? Malanga va sempre a dire sta strozzata in giro. Autore di tante di quelle invenzioni e supercazzole che non hanno una base storica o una prova tangibile della realtà che veramente sarebbe stato degno dello zelig degli studi religiosi e dell'esoterismo roba che Biglino a confronto è talmente serio da meritare la cattedra alla scuola rabbinica. Ma lui lo sapete che ha detto? La parola è seni secondo lui lo sai cosa voleva dire? coloro i quali seguono Gesù peccato che gli esseni sia come nome esseni sia come formazione si sono manifestati come ho detto all'inizio due secoli prima della nascita di Yeshua Beglyosef per gli amici Gesù Cristo tutto sto gran chiacchiericcio sugli esseni nasce quando? Nasce dopo i ritrovamenti del 45-47 ovviamente beneficio al 1900 di Qumram d'accordo? nei quali si trovano svariati testi che sono imputabili agli esseni dove testi bene o male dove descrivono la loro comunità bla 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 tra questi c'è anche un testo che forse detto così qualcosa ve lo ricorda la regola della guerra dei figli della luce contro i figli delle tenebre qualcuno ha detto Tonini? sì da cui poi tutta una serie di comunicatori di Youtube hanno tirato fuori tra cui quello che ho detto il discorso degli alieni figli della luce e noi figli delle tenebre se non ci crediamo ma lo sapete qual è la cosa più imbarazzante? vi dice qualcosa il nome Edmond Bordeaux Zeccheli? un filosofo ungherese morto nel 79 1979 un amante degli studi religiosi esoterici no non vi dice un cazzo sto nome non vi dice un cazzo non vi dice niente veramente peccato che sia l'autore del famoso Vangelo Esseno della Pace che ha scritto vi ricordate l'altra volta che ho parlato del Vangelo Acquariano? eppure lui l'ha scritto negli stessi anni il Vangelo Esseno della Pace dove ci parla di questo Gesù Cristo Paladino del Vecanesimo figlio delle stelle degli alieni e di tutte queste stronzate qua che dice che lui l'ha ritrovato no che ha scritto lui lui l'ha solo riportato alla luce ed è il secondo più comico dei Vangeli apocrifi scritto con la tecnica degli ignossici come il Vangelo Acquariano stracolmo di supercazzole e voi vedete che ci sono tanti imbecilli tra di voi che oggi dicono che Gesù era vegano no perché ci siano documenti storici che stabiliscono che c'era la regola del veganesimo tra gli esseni no perché lo dice il Vangelo esseno della pace era un po' difficile che gli esseni fossero vegani essendo degli ultraortodossi della legge mosaica era un po' difficile ma noi sappiamo tramite il Vangelo esseno della pace che Gesù era esseno era vegano era capo di un'armata di guerre stellari e molti tra di voi ci credono e se ne fottono se è stato dimostrato che la famosa teoria che ha detto l'autore ovvero sia che si trattava di un testo che lui aveva trafugato dagli archivi vaticani in aramaico e aveva riportato è una notizia falsa che la storia ha dimostrato che è falsa se ne fottono non ci credono perché dicono che è tutto un complotto per non dire la verità ovvero sia che Gesù Cristo era vegano e bla 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 e potrei dirne tante altre distronzate allora la domanda che mi pongo con voi è qual è il vostro problema siete cristiani o siete innamorati della figura di Gesù Cristo avete quattro vangeli aggiungo pure Tommaso cinque che hanno una valenza storica reale comprovata avete la Bibbia sia essa quella lì che fa la cei ma i più curiosi possono leggersi pure il testo originale in ebraico avete tutto quello che vi serve per studiare per capire per farvi non dico la vostra idea ma farvi una ragione di tante cose invece no vi dovete attaccare al Vangelo Esseno della Pace al Vangelo Aquariano a Biglino a Malanga a Latonini a Redronni a tutti quei circoli esoterici che dicono solo una marea dei cazzate perché perché io sono convinto che poi se andate a studiare quello che dicono e non vi fermate come il pesce quando uno tira l'amo a farvi abboccare ma approfondite sicuramente vi rendete conto delle puttanate che dicono perché le basi culturali mancano ma voi volete crederci allora non me dovete romper cazzo e dovete seguire questi criminali che stanno creando dei mostri un po'